Siamo molto soddisfatti della conferma di Gianluca Signorelli, fa parte anche della nostra programmazione, della nostra scelta societaria di puntare nel limite possibile su Bresciani di qualità, di valore, di grandi capacità come è per esempio Gianluca Signorelli. Gianluca si abbina ai due veterani, Simone Tiberti e Alberto Cisolla, ormai considerato anche lui Bresciano d'adozione, farà parte di quel gruppo, di quel gruppo importante, se qualitativamente sia come spirito di squadra che serve per ottenere risultati importanti in vista del campionato dell'anno prossimo che sarà molto difficile. Gianluca è un ragazzo che è iniziato a seppur tardi con noi, è un gran lavoratore, un ragazzo molto serio che mette nella sua determinazione un aspetto importante per raggiungere traguardi di altissimo livello, l'ha dimostrato in tutti questi anni, quindi per noi è una pedina fondamentale per la prossima stagione sportiva.